Il presidente dell'Associazione Culturale Dialogo, Piero Vernuccio, scrive alla sovrintendenza dei beni culturali di Ragusa per chiedere che si verifichino i lavori effettuati dal comune di Motica per il ripristino di un muro di contenimento in via Pulino, nella città della Contea. Il manufatto fa parte del complesso Milano-Palermo sotto dopo qualche anno dell'alluvione del 1902 con i generosi contributi donati in particolare da queste due città a beneficio degli alluvionati e quindi risalenti ad oltre un secolo fa. L'associazione teme che i conci originali non saranno più riutilizzati perché dovrebbero lasciare posto ad una struttura di cemento armato che mai si concilia con lo stato del luogo. Si ritiene che i lavori che il comune di Motica, da committente, sta facendo eseguire da una ditta a parte del dirice presso la via Nuova-Sant'Antonio, scrive al presidente dell'Associazione Dialogo, non siano conformi alle regole d'arte. Si tratta della ricostruzione di muri paraterra di rilevante altezza facenti parte del complesso urbano Milano-Palermo realizzato con i contributi a seguito della disastrosa alluvione che colpì Motica nel 1902. Parte di questi muri ebbero a crollare anni fa a seguito di abbondanti piogge. A quanto ci risulta, scrive ancora l'Associazione Dialogo, la ricostruzione sta avvenendo con volgari gettate di calce e struzzo su armatura in ferro, gli originari possenti massi di pietra viva e egregiamenti lavorati tutti a mano non starebbero per essere utilizzati. È ipotizzabile, dichiara ancora Vernuccio, che a conclusione dei lavori questi massi potrebbero essere esportati, privandano così il patrimonio comunale. È per questo motivo che l'Associazione Dialogo chiede alla sovrintendenza di Ragusa di effettuare un sopralluogo e, nel caso si valutassero in congruenza, di adottare un provvedimento di sospensione dei lavori. Grazie a tutti.